Musica Un importante docufilm di cui abbiamo avuto un assaggio qua a Carrù per la terza tappa di Autunno con Gusto. Cosa ci possiamo aspettare da quanto hai realizzato? Allora, Verrà un'altra estate è il titolo del docufilm che con ATL e con altre realtà del territorio stiamo realizzando. Abbiamo iniziato le prime sequenze, la sequenza che poi sarà anche quella introduttiva e l'abbiamo fatta in questa stagione, nella stagione della transumanza, di rientro, il ritorno. Proprio perché il titolo dice Verrà un'altra estate, il mio concetto, quello che vogliamo raccontare è proprio questa tradizione che si ripete, come il titolo dice. Verrà un'altra estate, cioè attenderemo un'altra estate. Così fanno i malgari che attendono proprio la fine, la tarda primavera per portare le mandre verso l'alpeggio e lì restare fino a quando l'autunno bussa le porte e c'è il ritorno. Per un'altra estate è proprio quella che attende Christian, il bambino di 11 anni, protagonista insieme alla mucca albina di questa storia. Una storia che racconta proprio quella che è la vita, il sacrificio, la voglia anche di vivere proprio con passione questa dura realtà che è l'alpeggio. Il racconto di tanto sacrificio ma anche un momento di convivialità per le persone perché io penso a quando la transumanza passa ancora, anche se raramente nei paesi, tutti escono sul balcone o comunque in strada per guardarla. E' vero Arianna, per me era una cosa del tutto nuova direi, nel senso che io sono milanese quindi è difficile vedere la transumanza a Milano, c'è una transumanza d'altra natura, d'altro tipo, però al di là di questo le montagne erano sempre vissute e amate. Noi avevamo casa in Valsesia quindi lì c'erano le mucche, a Pasco lui andavo a prendere il latte dalla signora Angiolina, mi ricordo che lo mungeva ogni mattina e ogni sera, andavamo a prendere ancora caldo. Ecco quello che ho vissuto proprio in questo scorcio di valle, la Valle Maira, che come tutte le valli del Cunese hanno delle suggestioni e un fascino incredibile. Come dicevi il fascino del sacrificio che c'è, perché ogni giorno queste persone devono lottare con quella che è innanzitutto la natura, gli elementi naturali, ma sono mosse da una passione unica, proprio come quella che vive il bambino, Cristian, protagonista della nostra storia insieme alla sua mucca albina.